Ciao amici, sono qui con voi oggi per scoprire i vincitori della seconda settimana. I primi in palio oggi sono al terzo posto uno sconto del 20% per la categoria offerte, al secondo posto uno sconto del 50% per la categoria moda e al primo posto uno sconto del 70% per la categoria profumi e cosmesi. Conosciamo subito i vincitori di oggi. Al terzo posto abbiamo Nicola Pietro Pera, al secondo posto Valentina Greco e al primo posto Monica Marini. Complimenti a tutti, noi ci vediamo la prossima settimana per scoprire altri tre vincitori.